Inizia in Consiglio regionale il confronto sulla proposta di riforma della legge elettorale abruzzese. Il presidente del Lancia Abruzzo e sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, in audizione davanti alla Commissione Statuto, ha espresso quelle che sono le criticità evidenziate dai primi cittadini, che vanno ad incidere in maniera importante sul tema della rappresentatività e rappresentanza dei territori. Rivediamo la norma antisindaci del 2004, ha detto no al Collegio Unico. I sindaci riuniti, tutti attraverso il direttivo che ho l'onore di rappresentare, chiedono assolutamente di modificare e rimuovere in modo importante la cosiddetta norma antisindaci, norma del 2004, che oggi prevede la ineleggibilità alla carica di consigliere regionale dei sindaci, prevedendo anche dei tempi e dei termini molto stringenti, perché lunghi in termini di previsione, per la rimozione delle cause di ineleggibilità. Ringrazio il Presidente Annuntis per l'audizione, che comunque mi ha consentito e ci ha consentito di rappresentare tanto alcuni punti comuni. Con questa modifica si rivede in modo incisivo il rapporto tra il Consiglio, quindi l'istituzione del Consiglio regionale, il rapporto con le comunità e con i territori. E quindi è necessario che ci siano tempi non stretti, che non sia strozzato il dibattito e l'apertura al confronto, che tenga conto anche delle diverse posizioni. E un altro tema su cui c'è una preoccupazione comune è quella relativa alla rappresentanza e quindi anche alla rappresentatività dei territori in merito alla modifica del collegio, che come sappiamo con la proposta di modifica diventa collegio unico. È fondamentale assolutamente evitare che alcuni territori possano essere sottorappresentati e pensiamo in particolare a quelli delle aree interne, comuni o territori di minori dimensioni che rischierebbero di non avere una rappresentanza e quindi rappresentatività all'interno del Consiglio. La circoscrizione unica e il collegio unico, peraltro, pone un tema, che è quello dei costi della campagna elettorale, che ovviamente diventa più onerosa e rischia di creare in capo a chi voglia partecipare un limite, un ostacolo e quindi ad alterare le pari opportunità nell'accesso, ovviamente, alla carica di Consigliere regionale.